Ci credi che questa pasta cremosissima ai piselli si prepara in un'unica pentola? Facciamolo soffriggere qualche minuto la cipolla nell'olio extravergine d'oliva. Giù i piselli e li lasciamo cuocere con sale, pepe e un po' di salvia. Quando inizieranno a diventare morbidi, ne frulliamo una metà con dell'acqua. Versiamo quindi la nostra fantastica crema nei piselli, aggiungiamo un po' d'acqua e buttiamo giù la pasta. La cottura sarà come quella del riso, quindi aggiungiamo un po' di acqua alla volta e per concludere parmigiano e pecorino romano. Questa pasta nella sua semplicità mi ha davvero conquistata.